buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di piove sono matteo branciamore ed ho qui con me cito da wikipedia il conduttore attore e regista comico e scrittore paolo ruffini allora come ci si sente ad essere una sorta di genio rinascimentale ma guarda mi sento molto a mio agio d'altronde questo ruolo di genio rinascimentale che non mi hai attribuito certo te ma il primo è stato luca telese in una puntata di matrix qualche tempo fa fa me lo sono ritrovato e ti dico bene bene perché perché si dai d'altronde mentre il mondo cade a pezzi io confondo nuovi spazi quindi dice dentro nuove esatto quindi è proprio essenziale la vita è molto ironica un giorno sei lì che fai l'inviato farfallone per antivi sulla spiaggia e poi da cosa nasce a cosa e boom diventi regista e la tua opera prima fuga di cervelli sfiora i 4 milioni di euro al botteghino qual è il segreto del tuo successo paolo oltre lo zio cardinale di cui non possiamo fare il nome guarda parte che la pellicola ha sfiorato i 6 milioni però d'altronde so che magari ti confondi ah già 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 ho letto male ovvero poi anche lo zio non è cardinale ma il vesco comunque vabbè ora io non voglio non possiamo comunque dire il nome comunque bene bene hai presentato due stagioni di colorado con belen ecco hai dei video privati magari da mostrarci no una serie insomma non ho fatto un film ho fatto proprio una serie come si chiama te lo butto tutto dentro e musica per le mie orecchie esatto e senti paolo sei stato sposato cosa puoi raccontarci questa esperienza sono stato sposato bene vedo che ne vuoi parlare molto eh sì paolo le cose cambiano si cresce senti so che stai costruendo una stanza della tortura nel tuo nuovo appartamento parliamo sempre di un hobby no me lo confermi no sta diventando un piccolo lavoro nel senso che tu mi indici una persona che non ti è gradita sì io la torturo sì la tortura diciamo più costosa al momento è quella che prendi io lo prendo prendo questa persona a te non gradita la siedo gli metto degli stuzzicadenti negli occhi e li faccio vedere in uno schermo molto grande la seconda stagione dei cesaroni quando inizia a sbavare quando si inizia i primi sintomi esatto inizia la terza e lì e lì poi soccombe però parliamo di tatuaggi dalle foto sui giornali ho visto che ne hai tanti sparsi su tutto il corpo no ecco alcuni se non ero rappresentano anche dei teneri cartoni animati personaggi di cartoni animati ecco paulino che cos'è ti picchiavano i bulli a scuola non sei mai voluto crescere bastano no no io ho un'infanzia bellissima ora va bene no 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 paolo siamo tra di noi ma io non credo penso nell'azione che non accetto guarda io c'ho omer simpson che rutta in facciato pulino che è l'unica cosa che potrei mostrare però insomma tutto il resto non credo che sia determinante ecco ho letto che sei un collezionista di vhs un vero cinefilo sfegatato ne ho 16 mila se ami così tanto il cinema non ce la fai proprio a trattenerti dal fare un altro film patite patite è anche però aperto un'associazione cinematografica chiamata nido del culo 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 con la cu insomma con la cu esatto che tra altre cose ha organizzato anche un festival horror paolo si cos'è una mossa del tuo commercialista per aggirare le tasse no è per spacciare droga era un modo simpatico secondo me per spacciare un po di droga così tra senti anche tu no è come la voce di una bambina disperata no sta succedendo di nuovo stai male vedi delle presenze hai dell'exodan no anch'io io non vedo dei fantasmi ma vedo degli orribili fantasmini guarda purtroppo sbagliato giorno per smettere di prendere psicofarmaci direi di sì anche per metterti le scarpe continuiamo andiamo alla fine basta scusami paolo è stato un piacere avere qui con noi a piove il performer paolo ruffini grazie paolo grazie a voi è stato un piacere grazie infinito basta roberto non ti arrabbiare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao